Il progetto PREPER tra le azioni tecniche che prevede per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano prevede anche molteplici azioni sul settore trasporti. In particolare per coprire tutte le varie sfaccettature della logistica e della mobilità sostenibile abbiamo messo a punto nel progetto più di 20 azioni. In particolare andiamo dalla mobilità ciclabile con formazione e informazione a diverse tipologie di stakeholder e si parte sia dai pubblici ufficiali sia dalle scuole, gli studenti delle scuole e dai cittadini. Ma poi passiamo all'incentivazione della mobilità elettrica attraverso l'istituzione di alcuni Electric Mobility Day, al sostegno dell'eco driving ovvero della guida ecologica facendo del training a migliaia di utenti sia autisti di pullman e bus sia utenti delle scuole guida sia neopatentati che i loro istruttori. Poi si passa al settore della logistica dell'ultimo miglio in area urbana ed extraurbana per arrivare anche a un navigatore multimodale che consentirà in qualche modo di muoversi, al cittadino di muoversi in maniera ottimale su tutto il bacino padano. Grazie. 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 Grazie.